L'aspetto con la quale noi abbiamo approcciato a questa iniziativa è stata quella di poter coinvolgere in particolare i giovani per consentire loro non solo la conoscenza di un gesto sportivo, ma per avere la cognizione di una tranquillità, una serenità, un aspetto proprio di vita all'interno del vissuto della società. Spesso e volentieri sentiamo di aspetti che chiaramente coinvolgono i nostri giovani in azione che chiaramente sono di carattere violento e allora noi dobbiamo fare in modo che gli stessi non partecipano all'aspetto violento ma però ne sappiano trarre insegnamenti e sapersi difendere. Da qui un nostro docente che ha insegnato loro, questo termine chiaramente diventa uno slogan, sporte sì sicurezza e da qui chiaramente questo aspetto è stato interpretato con la scuola Marconi, con i docenti a cui va il nostro ringraziamento per l'apertura a questo nuovo modo di approccio come possiamo vedere del mondo sportivo, ma che di per sé crea le condizioni di conoscenza e nello stesso tempo di reciprocità, di rapporto, di scambio che giustamente i giovani devono avere tra di loro e con la società stessa.